Ok, allora, buonasera Jimmy Ciliberto, grazie per averci concesso questa intervista in cui ci illustrerai un pochino il tema del tuo prossimo seminario, che è sulle pratiche collaborative e in particolar modo poi su uno strumento che tu conosci bene, che è l'Open Dialogue. Noi ci siamo visti qualche anno, una manciata di anni fa, proprio con Giacco Seicula, a Milano che è venuto, eccetera. Tu sei stato in Lapponia più volte, dove sei quasi di casa. Ecco, che cosa sono le pratiche collaborative? Cos'è l'Open Dialogue? Intanto grazie a te per l'invito, grazie a te, grazie al centro per l'invito. Allora, direi che definirei le pratiche collaborative come una galassia, una galassia che è caratterizzata dalla proposta di un capovolgimento epistemologico rispetto non solo alla cura, ma alla relazione con l'altro in generale, nel senso che le pratiche collaborative che si differenziano tra loro anche per caratteristiche, ambiti di intervento specifici, sono comunati però dall'idea che il diretto interessato, diciamo così, sia un individuo, un sistema famiglia o una comunità debba essere necessariamente coinvolto in maniera tale da poter costruire insieme quel contesto relazionale che permetta appunto all'utente finale, definiamolo così, di far emergere le risorse da una parte e dall'altra l'intervento il più specifico possibile che possa aiutarlo a superare un momento di impasse. Questo concetto è un concetto non nuovo all'approccio, ad esempio, sistemico-relazionale che credo si possa ascrivere all'interno delle pratiche collaborative perché sottolinea come prima di pensare ad un intervento l'operatore della relazione di aiuto debba porsi delle domande sul contesto, cioè dove sono in questo momento, quando sono, qual è la storia delle persone che ho di fronte, in maniera tale da riaprire un dialogo laddove si è chiuso e far emergere appunto quella che può essere la risposta il più precisa possibile per quel sistema. In qualche modo è come se fosse un lavoro, le pratiche collaborative propongono un lavoro sartoriale, come un vestito su misura che tenga conto di tutte le specificità del corpo, dell'utente finale del sistema con il quale stiamo lavorando. È un esercizio di curiosità, quindi, verso l'altro, un paziente non paziente, ecco. È un esercizio di curiosità verso l'altro ma anche verso di sé in relazione con l'altro. Tanto è vero che appunto nel dialogo aperto, ma comunque appunto in tutti quegli approcci che in qualche modo si riconoscono all'interno appunto di questa galassia delle pratiche collaborative, c'è sì una curiosità verso l'altro ma l'operatore si dà anche il tempo di sentire come reagisce alla storia dell'altro. Quindi non è un caso che appunto anche nella formazione degli operatori l'accento è posto proprio sullo stare in ascolto, no? Sul promuovere questa idea di ascolto responsivo e di polifonia, che richiama un po' anche al concetto di voci interne anche di cui parlava anche Boscolo, no? Cioè creare una modalità relazionale, un modo di stare in relazione dell'altro che non solo ci permette di essere curiosi ma anche di darci il tempo di ascoltare le risonanze che si attivano dentro di noi nel momento in cui stiamo in relazione. Certo, l'Open Dialog tra l'altro ha incontrato uno straordinario successo proprio in quei contesti, in quei servizi dove non so, la cronicità, la difficoltà del casa o sono di casa? Sì, esattamente, nel senso che quello che spesso accade nei momenti di crisi, indipendentemente dal tipo di crisi, è che c'è una persona o un sistema che porta un livello di sofferenza, un livello di angoscia tale che dal suo punto di vista ovviamente chiede una risposta per smettere di stare male ma contemporaneamente anche l'operatore, che è un essere umano prima di essere operatore, vuole uscire da quella dinamica di sofferenza e angoscia ingestibile. Quello che spesso accade è che allora gli operatori attingano a delle risposte che hanno già per poter uscire il prima possibile da quel momento e sposano l'idea che la crisi debba essere prima sedata per poter poi lavorare. Nel dialogo aperto quello che all'interno appunto dei servizi di salute mentale ma soprattutto nel lavoro con le crisi si è capovolta questa idea nel senso che la premessa è la crisi è un momento generativo in cui finalmente i sistemi non utilizzano più quelle strategie che hanno imparato a trovare per poter sopravvivere e se noi siamo lì presenti in quel momento come operatore avendo in mente l'idea di crisi come momento generativo e potendoci dire di non sapere quale può essere la risposta in quel momento perché evidentemente tutte le risposte trovate fino a quel momento non sono state sufficienti, possiamo forse riaprire un dialogo come dicevo prima, laddove si era interrotto. Quindi questo richiama appunto l'idea di tolleranza dell'incertezza. E' ovvio che per poter stare in un tale livello di incertezza e di sofferenza deve esserci un contesto anche sufficientemente sicuro per tutte le persone coinvolte per poter stare in questo livello di incertezza e darsi il tempo di trovare una risposta perché altrimenti è ovvio che l'angoscio può diventare così fagocitante che poi le proposte sono l'ospedalizzazione forzata o qualsiasi altro tipo di dispositivo che ha però come obiettivo primario appunto quello di interrompere quel momento di sofferenza acuta. Ecco, si può dire almeno negli ultimi dieci anni ma anche più questo approccio, questo modo così ha trovato un largo interesse da parte come dire almeno del panorama italiano ma non direi solamente italiano perché poi le pratiche si sono diffusi in vari contesti dell'Europa ecco io prima facevo riferimento al fatto che tu sei più volte andato vai e vieni appunto dal freddo della Lapponia e ne sei uno dei testimoni più autorevoli diciamo in Italia di questa diffusione di questo tipo di pratica. Sì, allora in generale sicuramente il dialogo aperto negli ultimi dieci anni ha tirato l'attenzione a livello internazionale anche perché quello che è stato fatto sin dall'inizio degli anni Ottanta è stato di valutare quello che è una corposa letteratura scientifica diciamo una corposa letteratura scientifica che continua a confermare a differenza di altri approcci anche contro i follow up molto lunghi questi risultati. D'altro canto al di là del dialogo aperto in generale questo tipo di idea che è proposta dalle pratiche collaborative è sempre più condivisa in realtà anche dalle istituzioni anche le ultime guide della linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nella proposta di diverse modalità di intervento al di là degli esempi tra i quali c'è anche il dialogo aperto ma gli esempi sono comunati dall'idea di non poter più fare a meno di sviluppare pratiche di comunità che tengano conto della rete e della co-costruzione dei processi decisionali nel senso che è sempre più evidente che tutti i protocolli che propongono delle risposte anche cosiddette evidence based sul breve termine non riescono a rispondere alle situazioni multicomplesse e di crisi su questo tipo di livello e invita proprio i vari stati ad investire su delle pratiche invece che tengano conto di questa prospettiva anche con delle differenze perché poi appunto il dialogo aperto ha delle caratteristiche ma anche quando poi viene così proposto e presentato in diversi altri contesti sottolinea come in realtà poi ogni contesto debba un po' sentire come risuona questo tipo di organizzazione nel proprio contesto in maniera tale da modificarlo perché altrimenti sarebbe una contraddizione in termini io ti dico di tenere conto delle caratteristiche dell'utente però poi vengo in un altro territorio completamente diverso e ti dico di fare esattamente come faccio io in un altro tra l'altro a proposito di questi studi di follow up che vengono fatti diciamo la caratteristica questi studi sono gli studi longitudinali diciamo siamo a dieci anni e quello che mostrano praticamente di significativo è che rispetto all'evidence based che generalmente è fatto sempre in un arco di tempo molto ristretto questi studi invece prendono in considerazione archi di tempo più corposi più consistenti siamo nei dieci anni e mostrano queste significative stabilizzazioni dei quadri non verso la cronicità ma verso forme come dire di benessere potremmo dire o di star meglio ecco esattamente da una parte appunto vanno proprio in questa direzione per cui i follow up non sono più solo a due anni anche perché si è visto ed è evidente che i due ci sono molti falsi positivi diciamo così e quindi i follow up che sono stati fatti negli ultimi 40 anni sono a due cinque diciannove anni più o meno quindi queste sono le dall'altra come non viene presa in considerazione solo l'idea appunto di guarigione se vogliamo usare questo termine dal punto di vista sintomatologico ma l'eterogeneità del costrutto della guarigione che quindi ha una dimensione sì sintomatologica ma soprattutto sociale e funzionale no? eh sì ad esempio però ecco ne ho letto alcuni di significativi per esempio in cui mostrano la cioè come dire la pressoché parziale remissione delle ricadute cioè ecco nella criticità nella cronicità il numero di ricadute è uno degli item che viene preso in considerazione praticamente ecco bene ci porterai qualche caso clinico qualche semplificazione mostrerai qualche sì l'idea è quella di sicuramente di di portare anche delle riflessioni su delle situazioni e anche l'invito magari di riflettere insieme su delle situazioni che attivano le persone che saranno che saranno presenti questo sì insomma c'è da che divertirsi da che essere interessati ecco da che esercitare la curiosità grazie Jimmy grazie a voi a sabato a sabato adesso adesso dov'è il coso per bene grazie a tutti grazie a tutti